Ma che si mangia a Castellabate, a Santa Maria di Castellabate? Venite con me! Castellabate sarà protagonista del noto programma culinario di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, La Prova del Cuoco, con 5 clip video che racconteranno i piatti tipici del territorio in altrettanti suggestivi scorci del comune. La troupe Rai, accompagnata da Nicola Prudente in arte tinto, uno degli inviati della trasmissione in giro per l'Italia alla scoperta delle ricette popolari, ha fatto un tour del comune per effettuare le riprese dei collegamenti. A raccontare anche in dialetto le ricette proposte per lo show del Mezzogiorno di Rai 1, le massai e i pescatori di Castellabate, persone simpatiche, genuine e caratteristiche del territorio che davanti alle telecamere Rai faranno vivere ai telespettatori della Prova del Cuoco un breve momento conviviale tra buon cibo e paesaggi mozzafiato. Il Belvedere San Costabile sul Borgo, Santa Maria sul lungomare Punta dell'Inferno, la spiaggia Lago di Castellabate, il porto di San Marco e Punta di Cosa sono le località nelle quali sono state girate le scene. Gustose pietanze hanno dato modo di presentare le eccellenze della gastronomia locale, dal fico bianco del Cilento, agli alici, alla triglia rossa di Licosa, alle olive e maccate e al pieno lo giallo del Cilento. Sono in compagnia di Tinto. Sei contenta con Tinto. Sono contentissima, meno male che non con Tonto va. No, 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 io faccio il Tonto ma sono Tinto, la Prova del Cuoco Rai 1, Decante Radio 2, Frigo, su Rai 2 e diversi programmi radio e tv ed è la prima volta che vengo a Castellabate e anche qua a Punta Inferno, si chiama così, è vero. Piazza Punta dell'Inferno, esatto. Ma qua è un paradiso, no? Non è un inferno. Bellissimo, poi ho assistito alla preparazione delle alici sotto sale. Alice, alici, gli occhi tuoi su due cornici, poi i tuoi sono bellissimi, quindi grazie dell'ospitalità 2S, sole e sorriso. Venite da queste parti perché è meraviglioso. Benvenuti al sud. Cosa stai imparando qui? Visto che hai fatto un po' un giro non soltanto qui a Punta dell'Inferno ma tutto il territorio comunale. Allora, andrò via stasera sotto me con un chilo, un chilo e mezzo, però andrò via felice. Vi dico la verità, stamattina ho iniziato la giornata lì al Belvedere, su a Castellabate. Pronto? Dottor Prudente, perché ho anche un cognome, sono il direttore della banca. Senta, qua c'è un docume. Mi ha messo di cattivo umore, ma appena ho visto il golfo, il sole, il sorriso di queste persone, mi è cambiata, ha iurnato. È un antidepressivo naturale il mare, no? L'abbiamo detto. Antidepressivo naturale. Venite qua perché è veramente un paradiso. Ma sai come lo chiamiamo noi questo comune? Il luogo dell'incanto. Quindi ti chiedo un saluto da Castellabate, il luogo dell'incanto. E sono rimasto incantato. Ma no, me lo devi dire. E te lo devo dire, il luogo dell'incanto. Ed è rimasto così ragazzi, devo continuare da sola? Tinto? Tinto? Dobbiamo continuare con la prova del cuoco però. Esatto, è la prova del cuoco. Dove ti ritroveremo? Rai 1 alla prova del cuoco, Radio 2 Decanter alle ore 20 e poi Frigo su Rai 2 il sabato mattina alle 10.30. Sono i miei social per i giovani, sai. Sono su Twitter Tinto1976, su Instagram Tinto1976, su Facebook indovina? Tinto1976. Stai anche condividendo un po' di foto del territorio, abbiamo visto. Certo, lì trovate tutto anche il backstage, perché poi le cose più belle sono nel backstage. Non perdete il gazzettinto della prova del cuoco da Castellabate. Andrà in onda poco prima di mezzogiorno, nella settimana da 16 al 20 ottobre. Grazie mille, Tinto. È l'incanto, è l'incanto. E questo è l'effetto dell'incanto. Invitiamo anche Antonella Clerici a questo punto che ci sta guardando. Vieni, vieni Antonella. Alice, Alice, gli occhi tuoi, sono due cornici. Ci ritroviamo a Castellabate. Grazie mille.